Buongiorno a tutti, mi presento, sono Bruera Luciano, responsabile del bar Parco Telbiglia di Saint Vincent. Oggi vi presento un drink di nome Sprintonic. Per la preparazione del nostro drink è necessario tre quinti di acqua tonica, un quinto di vodka lemon e un quinto di spremuta di mandarino. Passiamo ora alla preparazione del drinker. Prendiamo del ghiaccio, prendiamo l'acqua tonica, ora prendiamo la vodka, una parte, e una parte di spremuta di mandarino. Come guarnizione utilizzeremo una fetta di mandarino, mettiamo una cannuccia, il vostro drink è pronto, buona degustazione. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.